nonostante fosse incinta una rumena di 21 anni rubava pregiati profumi con la tecnica della borsa schermata con l'alluminio per eludere i sistemi di antitaccheggio anzi probabilmente ha pensato che una donna in attesa con una grossa borsa destasse meno sospetti ma un posto di blocco della polizia locale di fano ed il conseguente intervento della volante del commissariato ha messo la parola fine alla sua carriera di mamma ladra martedì 27 è stata fermata in viale primo maggio dagli agenti a bordo di un'auto in compagnia del complice un connazionale di 31 anni che gli faceva da palo i due agenti della polizia locale hanno subito notato che i due si sono agitati ed innervositi ed è bastato questo per chiedere subito il supporto degli agenti del commissariato per approfondire gli accertamenti sull'auto e sui due sospettati scoprendo ben presto un ingente bottino di profumi pregiati del valore di oltre 3 mila euro e la borsa schermata è stato un piacere collaborare con una forza brillante ben organizzata come la polizia di stato e ciò ha permesso anche da un lato di far capire che la grandissima importanza delle telecamere che il comune di fano è installata sul territorio deve essere sicuramente ancora aumentata come installazione dall'altro che la cittadinanza di fano deve stare tranquilla perché la città è veramente presidiata quindi si conferma la collaborazione delle forze di polizia è una grazia di sicurezza per la città i due residenti a roma e già con precedenti al loro carico sempre per colpi effettuati ai danni di esercizi commerciali sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso fra loro la merce ritrovata era stata rubata dalla donna in due esercizi commerciali in provincia di ancona con l'ausilio della borsa modificata la donna pur essendo in avanzato stato di gravidanza è stata arrestata e portata nel carcere di villa fastigi perché su di lei pendeva un provvedimento di custodia cautelare per furto emesso dall'autorità giudiziaria di roma quello che rimarchiamo è ancora una volta la collaborazione tra la polizia di stato e il locale comando di polizia municipale di fano e che ha portato grazie anche all'ausilio del fondamentale utilizzo dei sistemi di lettura targa che sono presenti nel comune di fano ci hanno hanno permesso di in qualche maniera insomma di individuare tempestivamente e bloccare un'autovettura con all'interno una persona gravata una giovane donna gravata da un provvedimento di custodia cautelare e in più del materiale oggetto di furto avvenuto nella stessa mattinata del del controllo all'interno di due centri commerciali di fa di ancona per un valore complessivo si tratta di profumi del valore di circa 3 mila euro perché ci sentiamo veramente appagati